bella a tutti i forniters benvenuti e bentornati su Leon2 che oggi in questo video per capire il negozio oggetto di oggi del 10 novembre su fortnite pacchetto hang con avatar hang nello stato di avatar piccone e bastone dei nomadi dell'aria e d'orso di colpa forza di mo 2000 vbac per questo bundle fino al 14 novembre poi abbiamo il deltaplano appa si vinceva con il pass le motte sfera aerea di hang e i miei cavoli vinceva con il pass di avatar di qualche tempo fa poi abbiamo il bundle Zuko e Katara l'altra di Katara piccone e mazza della tribu dell'acqua del sud poi abbiamo Zuko con il fodero di Zuko e le sciabole il pacchetto dei top dei Fong torso decorativo cintura del torneo e martelli da guerra poi abbiamo ancora Eminem con tutti i suoi vari bundle Snapdog Cadillac da io ribelle da ci dentro piedi lesti nuove motte ricchezze poi il bundle ombre con rubino ombra torso decorativo borsa del blackout cone affetta ombre e deltaplano ombra del cielo ma andiamo a rivedere un attimo la nuova skin la nuova emote la nuova emote ok carina molto carina poi abbiamo tempesta di sabbia con kin in triplo stile senza maschera e giù il cappuccio poi abbiamo malevolenza con il dorso decorativo ali malevoli poi abbiamo desiderabile aspen macello e ranger ricognitore misuri da potenziato il piccone falce spettrale come piccone e la skin lyncher senza cappello e scuoti ombre e il dorso decorativo secondo sguardo poi abbiamo palla 10 con un rezzo le tracce gem attrezzatevi per il festival almasamion pass e creo di fortnite bundle e offerte speciali comprese in salva al mondo che non vediamo su nintendo switch è tutto per questo negozio oggetti ragazzi mi raccomando un bel mi piace lasciate un commento iscrivetevi al canale ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti